Ciao a tutti, benvenuti a un pieno di libri. Oggi vi presento Una gatta in fuga di Vanna Cercenà. Questo è un libro della Giunti che fa parte della collana Colibri. Colibri è una collana di libri appunto per bambini e ragazzi, si utilisa per fascia d'età e questa è per un'età sui 7-8 anni. Il titolo è Una gatta in fuga ed è la storia di una gatta che si incontra casualmente con una bambina, ci troviamo a Damasco e un giorno appunto avviene una grande esplosione e inizia una fuga, proprio per questo che si chiama Una gatta in fuga e la storia è la storia appunto che magari sentiamo anche abitualmente di queste persone che devono scappare dal loro paese d'origine per una guerra, ma in particolare in questa storia questa fuga è raccontata da una gatta. Quindi tutto quello che vive durante il tragitto, il fatto di nascondersi o cercare di essere più veloci in altri momenti è tutto visto da un punto di vista di un gatto, che magari appunto non pensiamo che oltre alle persone ci possano essere anche degli animali che possano essere in pericolo in queste situazioni. Non vi dico altro, vi lascio a questa lettura che vi consiglio vivamente e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!